Sono seduto sul daybed, forse il pezzo più iconico di tutta questa collezione. L'idea è semplicissima, è fondamentalmente quella di avere una sorta di salotto flottante, una composizione molto ampia che ti permette di essere protetto dal sole e contemporaneamente godere di un contesto di esterno, di grande rilassatezza, come appunto se uno fosse in un intero salotto. È una forma molto nuova, con queste sfaccettature e questa bassa scaffalatura che avvolge questo grande letto. Il telo è chiaramente un telo reclinabile che può automaticamente scomparire e va in appoggio sui ripiani, in maniera tale da avere una maggiore esposizione al sole. La collaborazione con l'azienda Talenti è una collaborazione per me molto recente, nel senso che stiamo lavorando assieme da meno di due anni. Nasce alla fine da un contatto che hanno creato loro nella figura di Edoardo, che pur essendo giovane mi aveva colpito per la sua capacità di interpretare il design e da subito è nato quello che per me è fondamentale, cioè un grande rapporto di empatia tra il designer e l'imprenditore, un design fatto di rapporti umani, di scambio di opinione, non tanto di rendering, rapporti a distanza con dei diktat da una parte o dall'altra. Al prossimo episodio